Sicuramente si è cambiato tanto, quando si cambia tanto per lo più ancora del campionato che andiamo ad affrontare, che sarà difficile, bisogna arrivare nelle prime 5 e bisogna mettersi in moto subito e cercare di costruire un qualcosa fin dall'inizio. Il tempo non ce n'è, dobbiamo essere bravi noi con l'allenatore e con tutto lo staff a cercare di fare gruppo subito perché quando si cambia più di 20 giocatori non è facile partire subito dall'inizio, però i presupposti ci sono, sono arrivati tutti i buoni giocatori, la squadra è stata allestita bene, adesso sta a noi e sta al campo a cercare di fare il prima possibile. Per le impressioni, da quello che leggo anche sui giornali, è un'ottima squadra, stanno allestendo veramente un'ottima squadra, siamo carichi per iniziare a partire, tanti giocatori sono andati via, tanti sono giocatori nuovi, quindi sì sarà un minimo problema, solo un attimo conoscerci e basta, ma il ritiro è fatto anche per quello.